Via Napoli a Tortoreto proseguono i lavori di realizzazione della nuova rotatoria, quella che da qui a qualche settimana andrà definitivamente a disciplinare il traffico tra l'intersezione appunto di Via Napoli e la Statale 16. Importo dei lavori su base d'asta di circa 300.000 euro, ovviamente poi la spesa per lente di poco più di 200.000 euro. La ditta appaltatrice, la Costram, sta effettuando ovviamente i vari interventi, le varie opere. Ovviamente in questo periodo si generano, soprattutto nei fine settimana, dei problemi legati alla viabilità al traffico. Qualcuno ha suggerito l'idea probabilmente di installare dei semafori provvisori, soprattutto nelle giornate di domenica, laddove Via Napoli vada ad assorbire tutta una serie di viabilità, il traffico di rientro di coloro che dopo aver trascorso la domenica al mare tornano verso l'entroterra. Ovviamente bisognerà stringere i denti per qualche altra settimana, visto che comunque i lavori sono in via di definizione. Opera questa ovviamente molto attesa e importante, che nelle intenzioni di chi l'ha pensata la progettata dovrà andare comunque definitivamente a risolvere alcuni problemi legati alla fluibilità del traffico e creare di fatti un raccordo con l'altra rotatoria presente più a sud che disciplina l'innesto sempre con la Statale 16, con la strada provinciale 8 del Salinello.